Ariel Winter Ariel Winter, quest'autunno, il latex è il trend più sexy di tutti Ariel Winter ha portato nella sua vita una ventata di positività, una bella barca e tutti i trend freschissimi delle più recenti settimane della moda. Uno su tutti di cui, ci avremmo scommesso, l'attrice di Modern Family si è pazzamente innamorata è il latex. E bisogna dire che Ariel lo padroneggia già alla perfezione. Ariel Winter, arrivederci agli shorts. Si può dire che gli shorts di Ariel Winter sono stati riposti nel cassetto, nell'attesa della prossima stagione calda, e sostituiti dal suo nuovo alleato di bellezza. Al momento, Ariel si gode gli ultimi trend dalle sfilate di Milano e New York, e padroneggia il latex come una dominatrice sensuale. . Nel suo ultimo scatto su Instagram, la stellina che ha brillato più forte che mai agli Emmy Awards con quello spacco più lungo della gamba ha dato il meglio di se non solo a Levi Meaden, il suo fidanzato, ma anche ai suoi fan. . I due, teneramente abbracciati sul ponte di una barca, si scambiano un dolce bacio e sfoggiano un look perfetto. . La star di Modern Family indossa un top di paille siridescenti e luccicanti, una pelle baciata dal sole e un paio di stiletto argentate con taco scultura che fanno girare la testa. . Chicca indiscuss dello outfit è la gonna, rosso fuoco, in latex a vita alta. La lunghezza è perfetta, non troppo corta, né troppo lunga, e crea un effetto elegante tutto da copiare per una serata un po pazza. . Ed ecco che fa il suo grande ritorno sulle passerelle latex, e assieme ad esso Instagram si popola di celebrities che lo sfoggiano con orgoglio. . Questo tessuto sintetico, del resto, è perfetto per mettere in risalto la forma perfetta del proprio corpo, scolpito dalle dure ore di palestra. . Ariel Winter ha la ricerca del suo posto nel mondo, tra critiche e fitness. . Ariel Winter è famosa per il suo ruolo in Modern Family e perché i suoi outfit hanno fatto a lungo discutere i social media, infiammando gli animi dei fan e spaccando lopinione pubblica. . Se da una parte gli haters la accusano di essere sovrappeso, dallaltra ci sono le persone che si arrogano il diritto di farle sapere che, a loro avviso, i suoi abiti sono troppo striminziti. . Ariel, estimatrice dello short singuinale, adora i suoi abitini succinti, e niente le farà cambiare idea. . 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